Amici, buongiorno, Anna Italia con voi. Oggi ho avuto nel vaso ancora poco basilico, ultimo basilico che è già conservato a casa perché è venuto gran gran freddo e con questo ultimo basilico dove ecco qua cucchiai ho fatto questo genovese, non ce l'ho mortarlaio ma faccio con questa qua storica macina caffè che già ce l'ha più di 20 anni, un po' di aglio parmigiano, olio buono, è venuta una cosa straordinaria amici, ora assaggio, ho già assaggiato tante volte, proprio mamma mia, da licarsi i barfi, non voglio pasta, voglio licare qui come nutella, capite come nutella così, licare piano piano. Allora, ho trovato, non ce l'ho tanta, devo comprare pasta amici, ho trovato questa qua, è bio e anche integrali, io sempre integrali, allora più di così non si può, pasta mi sembra fa cop, questa marca qua, conoscete bene. E oggi si mangia questa pasta perché basilico sente freddo, ho cominciato basilico cadere giù, foglie giù, anche che sta in casa vicino finestra, un basilico amici si è spaventato perché non capisci che è successo, avevo bello caldo, stava fuori, questo di mia socia che ho portato da Lazio. In questo basilico ho cominciato a perdere foglie, anche se verde ma perde foglie, comunque ho fatto questo, ancora mi è rimasto per una volta, ancora farò qualcosa, no qualcosa, farò pesto genovese, magari si mangiano con gnocchi, con altra cosa. Guardate che è venuto, colore cambia da luce, vedete, dipende, dipende che colore, comunque colore è venuto, è questo, molto cremoso, vedete com'è, con noci fatto. Io uso tanti noci, vedete noci, questi qua, questi ho comprato, era in offerta, lì ho comprato, lì ho pagato un chilo e dieci euro, un chilo era dieci euro, scatole erano due euro, qualcosa così pagato di questa qua confezione. Qui in questi giorni voglio fare pezzoccheri di grano saraceno, c'è ricetta straordinaria che mi piace tantissimo questa ricetta, amici. Seguitemi e mettetemi un like se vi è piaciuto finora, grazie, un abbraccio a tutti, un sereno buona giornata a tutti, amici. Siamo andati a fare spesa e affamati tanto tanto, abbiamo comprato tanti salsicci per fare veloce frittata di ova e guardate che mangiata ora abbiamo fatto. Da tanto tempo che non mangiamo dieta salutare, no dieta, vita salutare finita e oggi mangiamo diversi salsicci, questi bucconcini così per capire quale è più buona, questa così fanno piccoli bucconcini, questa diversa e questa diversa. Qui c'è una salsiccia tagliata in due, una in due, comunque qui c'è tre salsicce, amici, come questa piccola, piccola sarebbe una e questa e questa ora basta, amici. Due salsicce e mezzo qui c'è, per una persona, per, no, per una persona una salsiccia e mezzo, sì, questo una salsiccia e mezzo, una salsiccia e mezzo. Ok, spengo, basta perché tuo orlo deve essere, vedete, vivo deve essere ancora, perfetto perché bianco, ecco qua, bianco già finito, bianco sodo e bianco sodo e quello giallo, tuo orlo deve essere ancora morbido, con pane integrale, perfetto. Poi abbiamo anche questo qua, questi qua, ho detto non comprare, mio compagno, non comprare più pomodori e cetrioli, basta perché è stagione finita, ora mangiamo, dobbiamo mangiare, dobbiamo mangiare cavoli, tutti cavoli, 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 amici, broccoli, broccoli, abbiamo comprato questa, questa qua, vedete, nostro pane preferito, una pagnotta 2,60 costa, ma questo integrale, fresco integrale, significa che non è congelato, e poi tanta tanta roba, ora vi voglio fare vedere, anche questa crema finita, ho comprato questa crema, veloce, 100% naturale, ora anche intimo devo mettere da parte, comunque abbiamo comprato, abbiamo comprato, tanti banane, tanti kiwi, guardate quanti kiwi, 3 kg di kiwi, tanta frutta, e abbiamo comprato fuggi, che io voglio fare anche in, 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 in forno, tanti fuggi, amici, ho comprato tanti mele, mie preferite, guardate, 5 euro, costano 12, 12, fatto messo io, 12 mele, faccio tutti al forno, faccio tutti al forno, e mangiamo 3 giorni, un po', un po', un po' costano, 1,80 un po' costano, amici, ma, che si deve fare, non vogliamo quelli, e poi, vi faccio vedere, solo questo qua, ho comprato, questa qua, avena ultima, era con, 40% di sconto, costava, però non è bio, integrale, questa qua, ricca, io do manciata quando faccio zuppa, questa qua, costava, 40% di sconto, comunque, pagato poco, questa da cuocere, 40 minuti, eh, allora, si mette solo nel zuppa, vedete, 50 minuti, già una volta, io, una volta, già ho, ho avuto questa qua, e ci vuole tanto da cuocere, comunque, nella zuppa, va bene, 50 minuti, e anche questa, comprato, così, per riserva, forse, farò questo bio, questa mi piace, forse, farò torta salata, perché, con questi ingredienti, si può fare, riempire, anche torta salata, amici, capite, per non mangiare pane, con salame, con prosciutto, questa bella torta, voglio fare, anno scorso, io, ho già fatto, 35 minuti, ho fatto, precotta, un pochino, e poi, riempio torta salata, allora, andiamo a mangiare, andiamo a mangiare, c'è vino ancora, vino da ieri, ieri, vedete, c'è quanto c'è, ancora, questa bottiglia, che abbiamo aperto, qualche giorno fa, di Salento, questo vino, deve essere, no, deve essere, già abbiamo, poi, attenzione, già abbiamo bevuto, 13 gradi, vino di qualità, vintage, vintage, del 21, già due anni, ce l'ha, di Salento, di caldo, caldo Salento di sud, questo qua, rosso di Salento, e vedete, IGP, vino IGP, bene, allora, vi saluto, amici, vi saluto, e vi auguro, vi auguro buona serata, un abbraccio a tutti, e grazie, amici, un bacio.